Pur lo zappatore dall'assato, ogni anno un gagagnisce lo vignale, la oliva a rogne e chiusa, lo casale. Facci moci tresette, rovinettoste e forte, che lograrai la promette, la lamana la lamana lalai, la lamana lalala. La mano che presenteremo le persone di altri paesi nei nomi di un sindaco o di un presidente della Proloco o quant'altro, diciamo un po' alla volta, però adesso voglio tornare subito al tema e vi faccio soffrire un po', ma è una sofferenza piacevole perché abbiamo pensato di introdurre questa serata con il meglio dei cinque anni del Palio del Grano. E quando parlo Palio del Grano, oltre alla Proloco, parlo nel nome del presidente Antonio Pellegrini. Saluto anch'io tutti gli intervenuti questa sera, in effetti, come diceva Marino, entreremo subito nel vivo di questa manifestazione, di questa sesta edizione del Palio del Grano. E' veramente un piacere vedere il trionfo della forza popolare di questo paese e spero che succederà questo anche con i paesi che si gemelleranno con noi. Forza popolare che è l'unica vera radice nel Palio. Il Palio è fatto in una forma materiale dai casellisi ed è bello ritrovare in queste immagini, in questa storia del Palio, nei suoi cinque anni, tanti ricordi, tante persone, tanti sorrisi, una voglia dello stare insieme piacevole, genuino, naturale. Ringraziare tutti i colori uguali degli altri paesi ed è veramente un onore accogliervi per il fatto che avete addirittura a questo progetto. e speriamo che queste relazioni diventino veramente reali e soprattutto quando sono andato poi a relazionarmi con loro ho detto spero che nel vostro paese nasca qualcosa di analogo e quindi quando poi farete la vostra festa verremo noi da voi. Viponati è bianco nero ed è cumpare cugastietto. Mi presento compadonato Mi potete pure accomodare sotto la bandiera insieme. Lorenzo Grippo che è rappresentato nel prologo di Policastro. Guardate la spiga. Policastro è giallo-blu e cumpare Camaronna. Grazie. Adesso chiamerei il presidente del prologo di Sansa nel nome di Manduca Nicola. Compa, siete andati con l'Urmo. Ecco Domenico Greco. E' la volta del vice sindaco di Casaletto, Giacomo Scannelli. Come tira una spiga e vediamo a chi va a compare. Vediamo a chi va a compare. Ok, Casaletto e Comparo Oscarano. Compa Michele Gianmarino. ...di Laurino, Ancelo Avagliano. Non c'è. C'è il presidente Losa. Ma è benissimo, il presidente Losa. Ma è benissimo. Oh, compare. Sei compare di Rocco. L'unico che conoscivi a Caselle. Dai, ho da beccato. Laurino e Cofforgia Mardetta. Allora, adesso è la volta del presidente prologo, Raffaele Doddato di Ottati. Buonasera. Ottati e Comparo a Taverna. Vai, la combattiamo. Viene accompagnata da una teglia e dalla mamma. Tu vuoi a scuola a Rofrano, è vero? Eh, eh sì. Ok. È una spiga. Lo so, lei. Rofrano e compare alla Pantanetta. Vai a dare un bacio a quello con la che si chiama Giovanni. La piazza... Compame, faccia mia scusa a Giovanni. La piazza è stata con lei che ha vinto il palio il primo anno e adesso è uscita per l'ultima. Stasera non ci sono i rappresentanti di tour, però insomma... avremo modo di costruire la squadra insieme. Quindi seca... Ma non... Io c'ho... No, 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 mi fa portare, ma io... Non è Gesù, non è... Non è Gesù, non è... 3-4-5. 3-4... 3-4... 3-4... Ma... Diciamo... che ce l'hoían... 4-7... 5-7... 5-5-7... 5-5-6... 5-5-6... 5-7... 6-7... La DCM